benvenuti a tutti nuovo appuntamento con la review di rampage sono Stefano la voce di AW Italian Podcast oggi sono qui per parlarvi di quello che è successo allo show che va in onda il venerdì sera su eh TNT un uno show che ovviamente eh sta cercando di crearsi il suo spazio come secondo show davvero importante ha avuto dei momenti migliori dei momenti peggiori sicuramente in questo periodo sembra un pochino sta ritrovando la sua strada è un po' più interessante eh i match in quanto tale sì sono belli però soprattutto ci sono le storie che vanno avanti e questa è una cosa fondamentale che dobbiamo cercare sempre di portare avanti per cui eccoci qua pronti per un nuovo video per parlare di ciò che è successo per esempio è successa una vittoria da parte di Darby Allin nei confronti di Matt Hardy Matt Hardy lo sappiamo voleva affrontare Darby Allin per portare un po' di eh pepe un po' di eh insomma forza in più eh al discorso in cui Darby Allin aveva affrontato già Jeff Hardy in quanto eh insomma i due si erano eh diciamo che Darby Allin vedeva in Jeff Hardy una sorta di possibile eh idolo ecco Matt Hardy aveva già combattuto contro Darby i due si ritrovano contro questa volta un match normalissimo senza cose assurde senza pazzie un match condotto molto bene da entrambi molto scolastico ma che alla fine è venuto bene cosa succede poi alla fine gesto di approvazione da parte di Matt Hardy gesto di approvazione da parte di Darby Allin Darby Allin se ne sta andando si spengono le luci e esce l'House of Black e l'House of Black comincia ad attaccare Matt Hardy allora qua attenzione perché vi devo portare su un ragionamento che potrebbe essere un pelino più complesso e più grosso di quello che potete immaginare allora quando prende il microfono Brody King dice qualcosa riguardo alla mancanza di Malachi Black e lo dice in modo molto tranquillo dice eh pensavi di aver vinto pensavate di avercela fatta cari Darby Allin e Sting invece avete tagliato la testa del serpente ma ciò non inficia assolutamente quello che può essere il nostro impatto quindi vi sfidiamo ancora una volta la sfida che abbiamo visto dato che questi due sono andati al salvataggio di Matt Hardy potrebbe portare ovviamente a un match in cui l'House of Black vince in qualche modo contro Sting e Darby Allin in qualche modo riesce a esserne superiore e poi magari c'è il ritorno di Jeff Hardy magari non nella prossima puntata però a breve e quindi vedere la prima sfida degli Hardy Boys contro appunto eh gli ormai House of Black orfani di Malachi Black quindi occhio perché sto immaginando un ritorno di Jeff Hardy anche collegato a questo tipo di dinamiche mi direte voi anzi ditemelo scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa possibilità magari è qualcosa di interessante magari invece dite ma dai magari Jeff Hardy non torna nemmeno io sono abbastanza sicuro che tornerà e che tornerà anche abbastanza presto sono arrivate un po' di notizie a riguardo però insomma vado un pochino oltre dico la prima file della fanno contro ehm la House of Black mia idea incredibile ma vero nonostante un paio di messaggi non troppo criptici su Sammy Guevara che sembrava aver abbandonato la nave della All Elite nonostante questo ci sarà Sammy Guevara contro Eddie Kingston al prossimo Grand Slam quindi la prossima settimana a Rampage vedremo proprio questi due collideri uno contro l'altro un match recuperato da All Out nel senso che All Out non si è potuto fare per un provvedimento disciplinare che ha tenuto i due lontani ora i due sono pronti a collidere di nuovo avevano detto appunto che si sarebbero fatti trovare pronti qualora ci fosse stata necessità ecco l'unica cosa Sammy Guevara sembra aver lasciato voler lasciare la EW mi ha sorpreso vederlo impegnato in un match per la prossima settimana poi o magari mi sbaglio io eh però mi sembrava proprio che Sammy Guevara avesse preso la porta dell'uscita lo scopriremo solo vivendo e vivremo apposta solo per scoprire cosa farà Sammy Guevara scherzi a parte sono curioso di vedere come la butteranno giù perché probabilmente verrà fuori una cosa anche a seconda di quanto Sammy Guevara rimarrà lì verrà fuori una cosa abbastanza eh verso in tutti i sensi eh Eddie Kingston sicuramente la la vittoria dovrebbe prendere la Eddie Kingston per il fatto che Eddie Kingston è l'idolo di casa New York la sua città però boh vediamo 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 il titolo Ringo Vonori invece sarà in palio Grand Slam infatti mentre stava parlando Claudio Castagnoli stava raccontando appunto delle geste del Blackpool Combat Club di quello che erano riusciti a raggiungere stava dicendo che appunto anche eh il quello che ultimamente ha perso il titolo perché la settimana scorsa l'ha perso Willer Utah contro Daniel Garcia eh non è un problema si riprenderà succederanno altre cose e tutto questo in un unico discorso beh arriva a Chris Jericho che lancia una sfida importante a Grand Slam ci incontriamo e lottiamo per il titolo del mondo che io non ho mai avuto cioè quello della Ringo Buono è una cosa molto interessante in realtà perché il match può venire molto bene Chris Jericho poi sta facendo delle ottime performance Claudio Castagnoli altrettanto credo veramente possa essere un gran bell'incontro mi auguro ovviamente che le cose vadano in una diciamo zona molto positiva perché anche Chris Jericho ha bisogno di lavorare bene in questo periodo è il suo modo per dire allo litio ci sono non vi abbandono e quindi dargli queste possibilità di brillare contro chi può farlo brillare veramente tanto bisogna dargli da queste occasioni sta facendo davvero bene eh Chris Jericho quindi va sfruttato molto 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 questo sarà un bel match credo proprio sarà un bel match se non sarà un bel match sarà stata colpa delle mie aspettative troppo alte però però sarà un bel match c'è stato un'altra sfida lanciata nel backstage Diamante ha sfidato Jade Cargill Diamante vuole assolutamente portare un po' di di sé a New York perché comunque la sua città e quant'altro c'è un piccolo problema ha detto che si porterà qualcuna e l'ha citata come the baddest bitch solo che il fatto che arrivi a Rampage a meno che Rampage non sia live onestamente non lo so può anche darsi che sia live ma non credo e comunque non puoi portare un nome gigante capito ma 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 fatemi sapere secondo voi nei commenti chi arriva a dare una mano a a Diamante chi comunque accompagna Diamante non fate voi lipindarci cerchiamo di essere più concreti possibile mi piacerebbe che fosse e sparate un nome cerchiamo di dare dei nomi concreti no so che state pensando a Sasha Banks ma cercate di dare dei nomi concreti su 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 Sasha Banks per esempio è un nome che non potrebbe usare della WWE e comunque per quanto ne sappiamo noi è ancora sotto contratto a Stanford no quindi 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 però se vi piace l'idea di magari interagire con noi provate a lasciare un commento o intanto che ci siete magari lasciate un like questo aiuterà tantissimo il canale a farsi vedere quanto più possibile ad altre persone che magari stanno cercando proprio contenuti sull'aurelite che trovando noi potrebbero trovare anche una bellissima community a fare da cuscinetto ed aiutare insomma il dialogo potrebbe essere una cosa molto molto interessante rimanendo sul versante femminile invece Penelope Ford ha battuto Willow Nightingale tranquillo Penelope Ford sta facendo bene abbastanza scolastica ma comunque va bene Willow Nightingale col pubblico ha una presa incredibile tutto molto bene tutto molto bene temo un po' che sia un po' più per costruire keep saving nel suo parlare quella scatola interagire costantemente con la scatola rispetto che magari una costruzione per Penelope Ford cercheremo di capirlo nelle prossime settimane perché ovviamente ne va anche dei nostri commenti no riuscire ad avere più chiaro dove vanno le situazioni ci aiuta anche a fare dei commenti migliori a Grandlem tra l'altro ci sarà l'ennesimo batterle per decartare un campione uno sfidante per il campione del mondo occhio io lo continuo a dire non è un buon metodo e ogni tanto viene ricicciato fuori ogni tanto salta fuori va bene però occhio e ci saranno un sacco di persone ci saranno compresi sicuramente quelli del Dark Order e Man Page e tra l'altro insomma queste due entità e Man Page e il Dark Order erano più o meno chiarito che sì c'è stato un errore da parte di Page però le cose sono poi andate meglio tra loro e che insomma si lasciano il passato alle spalle cosa succede invece arriva Rush e rompe le scatole ancora insieme a The Assistant a Preston Vance per portare una sua fazione in più in più in più stavolta le promette tantissimo ad Hangman Page quindi occhio perché Preston Vance potrebbe gettarsi contro Hangman Page turnare contro di lui al avvicinarsi al diciamo a quella che oggi è la fazione ingovernabile in all elite e creare una situazione dove magari si vanno a scontrare tre contro tre e poi chi vince magari va verso una situazione di titolo io non dico che debba andare per forza così ma è una possibilità non scartiamo l'a priori non scartiamo a priori nemmeno la possibilità di pensare a ogni time page che riesce in Canada a prendere il titolo o l'Atlantic nei confronti di pack perché ha battuto molto bene da Nansen e perché dall'altra parte io non vedo un pack che perde contro Orange Cassidy magari magari mi sbaglio magari invece ci ho visto giusto però non vedo tantissimo Orange Cassidy passare poi per le indie europee o per il resto del mondo a cercare di difendere quella cintura mentre invece ci vedo di più un Itam Page che in realtà potrebbe andare anche in Giappone fisico e tecnica ce li ha chissà chissà mai intanto Dan Hamsen batte sì Dan Hamsen Itam Page batte Dan Hamsen e insomma come era giusto che fosse e lo fa in modo molto pulito molto tranquillo molto onesto battuto punto basta fine Ricky Starks e Will Hobbs se le daranno ancora se sono dati appuntamento a Grand Slam credo proprio per un incontro quindi vedremo come finirà perché questa volta mi pare che pare evidente che ci sia da mettere la parola fine a questa fight se così non fosse devono davvero spiegarmi qualcosa per rinverdirla perché altrimenti sarebbe boh una minestra una riscaldata di cui forse non abbiamo nemmeno necessità dall'altra parte invece abbiamo avuto un main event molto molto interessante dove Samoa Joe ha battuto Josh Woods in un match molto bello come tutto molto bene anche tecnicamente i due sono andati veramente naso a naso che sono stati molto bravi entrambi ha vinto come giustamente ci eravamo anche già immaginato Samoa Joe il quale poi viene attaccato da ehm sia da Josh Woods che da Tony Nese che da Mark Sterling a salvare Samoa Joe a salvare la situazione arriva Wardlow Wardlow con la sua cintura che già una volta aveva provato a fare la la powerbomb a Mark Sterling senza riuscirci neanche questa volta ce la fa però poi brinda praticamente non si danno lo schiocco di cintura lui e Samoa Joe dopo che è stato liberato il ring anche se la settimana prossima dovranno fare team proprio loro due contro Tony Nese e Josh Woods in un match insomma a rampage di Grand Slam un sacco di roba interessante anche oggi veramente tanta tanta carne al fuoco sono contento che eh insomma si sia ritornato ad avere un rampage molto molto tranquillo molto ehm lineare ma che abbia dentro anche degli spunti interessanti per portare avanti le storie anche non fa mai male io vi ringrazio di cuore se avete voglia ehm i commenti sono qui aperti apposta per chiacchierare con noi fateci sapere cosa ne pensate di questo episodio noi intanto non possiamo fare altro che ringraziarvi io soprattutto vi ringrazio nella persona mia e stesso medesimo eh vi saluto vi do appuntamento ovviamente come sempre alla prossima grazie a tutti